Ci vogliamo rivolgere alla parola del Signore. Leggiamo dal libro di Neemia al capitolo 8. Leggiamo di questo importante compito svolto da questo uomo chiamato da Dio, infiammato dalla passione della sua parola, capace di scelte così importanti per onorare il nome di Dio, la sua città e la sua parola. Neemia, capitolo 8. Leggiamo dal verso 5. Così è scritto in Neemia, capitolo 8, dal verso 5. Esdra aprì il libro alla presenza di tutto il popolo, poiché stava in un posto più elevato, e appena ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse l'Eterno, l'Idio grande, e tutto il popolo rispose Amen, Amen, alzando le mani. Si inchinarono e si prostrarono con la faccia a terra, davanti all'Eterno. Jesua, Bani, Serebia, Yamin, Acub, Sabbetai, Odia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Anan, Pelaya e gli altri leviti spiegavano la legge al popolo, e il popolo stava in piedi al suo posto. Essi leggevano nel libro della legge di Dio distintamente, e ne spiegavano il senso, per far capire al popolo quello che leggevano. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo, «Questo giorno è consacrato all'Eterno, al vostro Dio, non fate cordoglio e non piangete, poiché tutto il popolo piangeva, ascoltando le parole della legge». Poi Neemia disse loro, «Andate, mangiate vivande grasse e bevete vini dolci, e mandate delle porzioni a quelli che non hanno nulla di preparato per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non vi rattristate, perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza». I leviti facevano fare silenzio a tutto il popolo, dicendo, «Tacete, perché questo giorno è santo, non vi rattristate». E tutto il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri e a fare grande festa, perché avevano compreso le parole che erano state loro spiegate. Fin qui la lettura della parola del Signore. Neemia, assieme a Esdra e agli altri che servirono il Signore in quel tempo, ebbero un grande compito da svolgere, perché nelle tre fasi del rientro dalla deportazione di Giuda, quello che trovarono era un disastro a tutti i livelli, però. Non solo per quel che riguardava l'urbanistica della città, completamente devastata da quella che era stata l'invasione, la distruzione, che 70 anni circa prima Nabucodonosor aveva operato, a causa dell'indurimento del cuore del popolo di Giuda. Ma c'era un problema proprio della ricostruzione della nazione, a livello sociale, politico, ma poi, e questo fu il grande compito di Neemia, assieme agli altri, quello di ricostruire spiritualmente la nazione, affinché si identificasse di nuovo come la nazione del libro, la nazione che serve Dio attraverso il libro della legge. Sapete, il popolo era stato deportato a causa proprio del fatto che si era allontanato dal libro. Oh, badate, non che non lo stimassero a parole. Sulle labbra avevano lode per questo libro, ma il loro cuore era lontano da Dio. E fu proprio a causa di questo che persero ogni cosa. E non bastò la lezione che Dio inferse a Israele. Non servì perché essi continuarono ostinati, come Israele, nel male, nel peccato. E considerate questo, il male nasce nel nostro cuore, parlo del popolo di Dio, non del mondo in genere, nasce nel nostro cuore e prende corpo quando la parola di Dio comincia a scivolare via dalla nostra mente e dal nostro cuore. Ora, non vi sembri strano, ma l'insegnamento che abbiamo qui è un insegnamento importante perché il popolo, prima della deportazione, si gloriava in Dio. Era fiero dell'iddio che avevano. Era orgoglioso della loro origine. E avere Abramo come padre a cui Dio aveva fatto le promesse. E, come dicevo qualche tempo fa, in una predicazione, quando Geremia cercava di portare il popolo verso la parola di Dio, essi, assieme ai loro falsi profeti, come Anania, ribadivano con orgoglio e con fierezza di essere servi di un Dio che li avrebbe preservati. Ma il problema è che credevano in Dio, ma si erano allontanati dalla sua parola. La parola non era l'oggetto del loro diletto. La parola non era il fuoco. Non concentravano, non si focalizzavano sulla parola di Dio. Non si concentravano su di esse. Non era il diletto di ogni giorno. Non era lo studio. Non era il cibo. Come disse Gesù, no? Non di pane solo vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dal padre. È il nutrimento della parola, la comprensione che servire Dio voleva dire immergersi nel libro, perché questo libro era il mezzo attraverso cui il popolo poteva servire Dio. ma distaccandosi dal libro si sarebbero distaccati inevitabilmente anche da Dio. E qui c'è un aspetto, io spero di riuscire a trasmettervelo, che la parola, la parola di Dio, questo libro benedetto, per noi deve essere oggetto di continue meditazioni. Non basta che tu dai il tuo consenso al fatto che questo libro è parola di Dio, che tu credi che in essa la verità di Dio si esprima perfettamente, che tu creda che Dio si è rivelato attraverso questo libro, o che tu conosca i piani di Dio secondo quelli che sono i punti fondamentali. Ma non è questo. Questa è la voce di Dio per il tuo cuore. Questo è lo strumento che lo Spirito di Dio utilizza per rivelare Dio quotidianamente in un crescendo che deve portarti sempre di più vicino alla gloria. Questo libro è il mezzo perché tu conosca te stesso i tuoi errori, i tuoi difetti, i tuoi peccati. Questo è il libro che ti permette di distinguere tra il bene e il male. Questo è il libro che ti permette di camminare rettamente e trovare il centro perfetto del volere di Dio perché lì copiose arrivano le benedizioni. Questo è il libro che ti permette di camminare non nel buio dell'incertezza, ma nella luce, anche se illumina un passo dopo l'altro, ma ti conduce sul sentiero rettamente. questo è il mezzo attraverso cui noi oggi in attesa della rivelazione gloriosa e perfetta di Dio, questo libro è il mezzo in cui noi possiamo gustare le perfezioni della grazia, della sua santità e della sua bellezza. Ma chi ne fa questa stima? Chi ne fa questa stima? Oh, guai per molti credenti solo a sfiorare la dignità di questo libro. Subito rispondono con fermezza a difesa della verità. Ma quanto è vissuta questa verità? Quanto è gustata? Quanto tempo ci spendiamo sopra? Quanto tempo viviamo in essa? riesce questo libro per la consacrazione che noi abbiamo adesso a rivelarci le cose gloriose di Dio? Vedete, il popolo finì esule in Babilonia. fu in altro modo di nuovo sotto il gioco di un popolo come era stato al tempo d'Egitto. E il problema sta proprio qui che se la verità ci farà liberi la lontananza da essa ci rende di nuovo schiavi. E non basta dire ho conosciuto la parola di Dio. Non basta dire ho conosciuto Dio perché per portare frutto nel Signore noi dobbiamo dimorare in essa. Se perseverate nella mia parola sarete veramente miei discepoli. E allora ecco che questo libro benedetto porta dalla saggezza la presenza la presenza la verità la gloria di Dio nella tua vita. Ed è qualcosa di straordinario la consolazione la benedizione l'aiuto il sostegno la forza la fermezza che che porta nel cuore di chi dimora in essa. Osservate la differenza tra questo popolo che ora si trova dinanzi a questo palco che era stato messo su proprio per leggere la legge di Mosè è il popolo a cui Geremia predicava si trovavano entrambi nella posizione di dire che erano figli di Abramo gli uni erano minacciati ma non ricorsero alla parola non si piegarono ad essa non andarono a consultarla per valutare la propria condizione la distanza che avevano da Dio e dalla verità non si misero faccia a faccia con la parola non isolarono la loro mente da ogni cosa per stare a tu per tu con gli scritti biblici e chiedersi Signore ma in questo io sono stato mancante in questo sono stato mancante la tua parola dice che se noi manchiamo tu ci renderai soggetti a popoli stranieri in deuteronomio questo veniva evidenziato quasi in forma profetica ma essi non ci badarono che importa dicevano noi siamo figli di Abramo ma Gesù spiegò molto bene questo concetto Dio è capace da tirare fuori da queste pietre dei figli ad Abramo figli di Abramo vuol dire seguire le orme di Abramo essere riverenti dinanzi la sua la parola di Dio e seguire i suoi passi questo vuol dire essere i figli di Abramo e vedete fratelli questo è un grande monito per noi perché non basta definirsi popolo di Dio per esperienze vissute o per il luogo dove si frequenta se la parola di Dio è lontana dai nostri occhi dalla nostra meditazione se la parola di Dio non è il cibo di ogni giorno se la parola di Dio non ci nutre e non mette in evidenza le nostre storture è la gloria di Dio e non ci corregge sul retto sentiero quello che accade qui è straordinario prima della deportazione il popolo è orgoglioso è immerso nel peccato Dio li sferza con i suoi profeti ma questi non sentono e non capiscono tanto la loro coscienza è indurita questo popolo che rientra a rischio della propria esistenza che vive negli stenti nel timore che fatica per ricostruire si ritrova davanti la parola del Signore e scopre che anche se nella povertà nel pericolo quel pianto che non si riesce a trattenere quel pianto che a stento i leviti e gli altri riuscirono a fermare era generato dalla parola di Dio finalmente la parola di Dio era tornata nei loro cuori finalmente stava di nuovo operando quei cuori di pietra che 70 anni prima l'avevano rigettata ora nell'umiliazione essi l'accolgono e l'astimano come la cosa più preziosa non li vedete in ginocchio a dire Signore dacci 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 Signore restituisci Signore glorifica il tuo popolo Signore Signore no sono in lacrime perché sentono di non essere quello che dovrebbero essere perché scorgono nella parola di Dio che a causa della durezza del cuore hanno perso ciò che di più prezioso c'era la loro relazione con Dio scoprono che quei tesori immensi sono stati smarriti perché si sono allontanati da cosa dalla parola di Dio e tu ti puoi anche illudere di essere vicino a Dio ma se ti allontani dalla sua parola tu sei distante mille miglia da lui perché Dio manifesta il suo volere nella sua parola e questi uomini bramavano più di ogni altra cosa di poter essere conformi a quella parola e quelle lacrime erano dovute al fatto che il loro cuore era straziato dal vedere la distanza che c'era tra loro e la parola di Dio tra ciò che essi facevano e ciò che la parola di Dio comandava e quelle lacrime erano il desiderio irrefrenabile di trovarsi conformi alla parola di Dio ecco che cos'è il vero risveglio oh fratelli miei quante volte noi fraintendiamo la parola risveglio per noi il risveglio è siamo qui tranquilli a fare un culto a un certo punto volesse Dio che accada lo spirito di Dio soffia intensamente segni miracoli prodigi tutti sono benedetti e ce ne torniamo allegri a casa ma io vi dico che il vero risveglio attraversa le lacrime dei credenti perché il vero risveglio esige un ravvedimento un ritorno alla parola di Dio un anelare all'obbedienza al voler essere conformi a quella parola e un amare Dio amando la sua parola perché non si può amare Dio se non ami la sua parola perché chi lo ama obbedisce e obbedisce a cosa? se non ha la sua parola e questo era il desiderio ed è meraviglioso è meraviglioso questo popolo che ascolta la parola i Leviti che spiegano passo dopo passo quello che viene letto affinché sia semplificato per chi lo ascolta viene spiegato il popolo è come se scopre qualcosa di nuovo si scopre come non pensava perché questo fa il raffronto con la sua parola ti mostra la santità di Dio e mette in luce le nostre debolezze perché tu possa con il suo aiuto correggerti ed essere conforme al suo volere e questo popolo che ascolta è come investito dalla presenza di Dio è come se dinanzi a loro un nuovo una nuova realtà si stesse aprendo e scoprono la necessità di un cambiamento o volesse Dio darmi una predicazione capace di produrre questo pregate per me affinché questo avvenga perché questo è lo scopo della parola di Dio la parola di Dio deve giungere ai nostri cuori metterci in crisi sciogliere le nostre i nostri occhi in lacrime mentre diciamo Signore bramo solo essere conforme al tuo volere e allora sì che il risveglio sarà glorioso in mezzo a noi perché questo è il risveglio vedete noi abbiamo questo bisogno il bisogno di vivere questo che questi uomini vissero e io io provo a immaginare quale realtà quale sensazione quale gloriosa opera questi uomini videro dinanzi ai loro occhi immaginate Esdra che apre il libro comincia a leggere gli uomini la spiegano e questo popolo numerosissimo viene preso da tremito e da pianto perché mediante quella parola Dio stesso sta operando in modo glorioso nei loro cuori per creare un cuore nuovo una mente nuova una nuova volontà questa volta piegata alla parola di Dio fratelli credetemi tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno è questo ma noi dobbiamo farci delle domande dobbiamo dirci che relazione ho io con questa benedetta parola quanto tempo spendo per studiarla conoscerla quanto amo raccogliermi con lo spirito di Dio dinanzi a questo libro affinché la gloria della sua presenza che è con te sempre possa illuminarti gli occhi e guidarti in questa verità verso quelle scoperte gloriose che tolgono il fiato tante preziose sono tanto preziosi sono i tesori della grazia che si aprono a quanti investigano questa scrittura e allora fratelli non commettiamo l'errore che fu commesso settant'anni prima dal popolo chi noi noi siamo figli di Abramo come puoi pensare minimamente che Dio permetta che un pagano come Nabucodonosor entri e devasti no questo non avverrà mai quei figli di Abramo erano così lontani da Dio che il soccorso di Dio non poteva aggiungere loro voglia Dio unirti a Lui mediante la sua parola piegare il tuo cuore amare Dio vedere in ogni singola parola di questo santo libro la santità del nostro Signore la sua maestà la sua voce tonante come quella di mille acque dinanzi alla quale rimanere soggetti ma anche entusiasti perché vedete se vogliamo vivere la gioia del Signore il nostro cuore deve attraversare il sentiero del ravvedimento che ogni giorno la parola di Dio imprime nel nostro cuore questi giorni mi sto dedicando allo studio più del solito cercando di disciplinarmi di più ed è incredibile conosco questa parola da tanti anni la insegno da tanti anni è come se fossi un bambino dell'asilo dinanzi a questo libro e ogni volta che mi immergo nello studio soprattutto delle cose che riguardano non solo l'insegnamento ma la mia vita personale nei confronti di Dio mi sembra che avrei bisogno di mille vite per poter giungere ad una conoscenza appena sufficiente per tutto ciò che da questo libro sgorga in saggezza in sapienza in verità quindi dedichiamoci adesso se vogliamo gustare appieno i tesori della grazia di Dio questo popolo se ne tornò a casa con quella bellissima frase la gioia del Signore è la tua forza ma la gioia del Signore sgorga nel cuore quando la comunione con questa benedetta verità ci rende pienamente liberi per la conoscenza della grazia che c'è in Cristo Gesù e per l'obbedienza che spontanea sgorga dai nostri cuori per onorare colui che l'anima nostra ama a causa di quanto abbiamo conosciuto di Lui nella Sua benedetta parola voglia di Dio imprimere questo nei nostri cuori e non dire la conosco ma diciamo piuttosto tornerò ad essa giorno dopo giorno giorno dopo giorno ogni giorno più profondamente perché non di pane solo vivrà all'uomo ma ad ogni parola che procede dal Padre chiniamo il capo in preghiera di Pottrino di Pottrino di Pottrino di Pottrino Grazie a tutti.